Non sei più tu, capisci? Sei tu, con 15 kg di meno. E beh, lo so che non è uno scherzo. La testa deve abituarsi a un corpo diverso da prima. Dopo quando arrivi al peso giusto e ti stabilizzi, capisci? Sonia? Ehi, mi ascolti? Lo capisco bene quando non ci sei, Sonia. Non ci sono neanche io in un certo senso. Tu sei un po' ben dietro con la testa. Non sei 45 kg. Magari sei ancora 50. E io sono un po' più avanti. Penso già quando sarei 40. Per cui in un certo senso nessuno dei due è qui in questo momento. Capisci cosa voglio dire? Tu vivi un po' più indietro nel passato. Io un po' più avanti. Quando sarei a 40 e ci arriverei anche con la testa. Io sarò lì. E finalmente ci saremo tutti e due. Poi comincieremo a vivere. Grazie a tutti.